Ciao, oggi sei a Sant'Elie, siamo esattamente nel bagno di questo appartamento che si trova al primo piano, in zona madonnella. Grazie al 360 gradi potete spostare il dito sul cellulare o mouse in modalità computer. Apprezziamo subito quelle che sono le potenzialità di questo ambiente. Alla vostra destra vedete direttamente quello che è il box doccia. Rodando abbiamo questa bellissima vetrinetta e continuando la rotazione verso il basso abbiamo sia il bidet che la tazza, oltre che ovviamente quello che è la finestra alle vostre spalle. Continuando la rotazione abbiamo il lavandino e la porta di accesso, vediamo anche il corridoio che abbiamo menzionato negli altri video e quindi a sinistra abbiamo la prima camera da letto matrimoniale, poi successivamente la porta della seconda camera da letto dei ragazzi e successivamente il corridoio che si completa uscendo sulla zona giorno che è la sala da pranzo e la cucina. Per tutte le altre informazioni vi rimando sul sito